Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Abbiamo ricevuto il nuovo pacco, andiamo subito a vedere cosa è contenuto all'interno. Ovviamente io non ho resistito e l'ho già aperto. Guardate, ed ecco qua, questo è il nuovo invio della moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR-M1. All'interno troviamo il numero 8 e il numero 9. Andiamo a dare un'occhiata molto velocemente a quelli che sono i contenuti, dopodiché mi raccomando, seguitemi perché ci saranno ovviamente i video del montaggio. Prima di tutto saluto Diego, il mio iscritto, che mi ha scelto per montare la sua moto. Grazie Diego. Ci vediamo presto, così ti farò vedere, anche se lo puoi vedere dal video, ma toccare giustamente con mano anche il tuo modellino. Quindi ci sentiremo più avanti, come ci siamo già messi d'accordo. Se qualcuno tra voi ha piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti in privato, grazie. Alla fine di questo video, prima di salutarvi, farò una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato. Ecco qui, questo è il numero 8. Adesso andiamo a vedere all'interno del fascicolo. Se avete piacere, oltre che guardare le immagini, potrete dare anche lettura. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Mentre faccio scorrere le immagini, guardate che belle, il fenomeno mondiale. Eccolo qui. Valentino Rossi. Dicevo, mentre faccio scorrere queste immagini, ringrazio tutti i miei iscritti e le persone che mi visualizzano. Grazie con tutto il mio cuore, ragazzi, perché continuate con le vostre visualizzazioni e iscrizioni a dare vita al mio canale. Così facendo mi permettete di portare avanti la mia passione condividendola con voi. Grazie. E invece per quelli che mi guardano ma si dimenticano di iscriversi al canale, mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare anche altri modelli. Ecco qui. Andiamo prima a terminare il fascicolo e poi vi farò vedere i pezzi contenuti. Queste sono le varie fasi di montaggio, ma che vedremo bene nel dettaglio durante il video proprio dedicato al montaggio stesso. Nel prossimo numero, che già abbiamo, io uso sempre il plurale, lo sapete, perché il canale è di tutti voi, oltre che mio, è di tutti voi che date vita. E quindi nel prossimo numero troveremo il cerchione anteriore. Guardate come sono ricchi questi fascicoli. È bello fare il modellino, si sceglie di farlo, proprio perché ci piace il modello, ma la storia non è meno. Chi ama questo campione non può non volere anche conoscere la propria storia, la sua storia. E di tutti quelli che chiaramente hanno lavorato e lavorano intorno a qualcosa di questo genere. Ed ecco qua. Abbiamo finito. Andiamo a vedere cosa abbiamo trovato. Ci sono un po' di pezzi. Cominciamo con questo. E la staffa della pinza freno. Poi qui c'è l'attacco radiale. Questa è la copertura in plastica, mentre questa che abbiamo appena visto prima è in metallo. Abbiamo i due dadi cilindro di recupero e dado pinza freno. Cioè, chiedo scusa. Abbiamo i due dadi pinza freno. Eccolo qui. Questo e questo che abbiamo già montato nell'ammortizzatore sinistro. Questa è la copertura posteriore della staffa. Tutto quello che vedete qua dentro è in plastica. Questo è il perno della ruota anteriore. E questo è il cilindro di recupero. Vi ricordate? Lo abbiamo montato sull'ammortizzatore sinistro. Ok. Due serie di viti. C e B. Adesso passiamo al fascicolo numero 9. Fascicolo numero 9. Ecco qua. Adesso poi, quando andrò a farvi vedere, per chi mi segue per la prima volta, gli steli anteriori degli ammortizzatori anteriori, vi renderete conto che sono praticamente identici agli originali, ai veri. perché c'è una copertura sopra di alluminio anodizzato. Mentre invece nella foto del fascicolo non è così. E' molto più bello dal vivo. guardate quanto... Quanti contenuti ci sono in questi fascicoli. Bellissimo. E' un bel modello, ve lo garantisco. Ecco, poi vi farò vedere, se mi ricordo, come ho già fatto in un altro video, la differenza tra questa finitura e quella che invece è realmente presente su questi ammortizzatori. non c'è paragone. Queste immagini sicuramente non fanno onore a quella che poi è la finitura finale, realistica proprio, perché, ripeto, è come l'ammortizzatore vero. Nella prossima uscita, che è il numero 10, ci verrà data la piastra della forcella, il dado ruota anteriore, la chiave a croce e due sette di viti. Abbiamo quasi finito. Ecco, vedete? Qui potete anche leggere delle cose importantissime. Qua vi spiegano dei dettagli che secondo me sono interessanti. anche solo per curiosità, per farsi una cultura, visto che ci piace questo grande campione e tutto quello che verte intorno. Ecco qui. Andiamo a vedere il cerchione anteriore. Vi dico subito che poi appena potrò lo peso, ma non credo che sia meno di tre etti. E di più, ma non meno. Ma quanto è bello! ve lo devo far vedere da vicino, se riesco. Ho cercato di dare più luce all'immagine. Che spettacolo, ragazzi! tutto metallo è davvero pesante. Un 3-4 ettili pesa di sicuro. Questa è la valvola del gonfiaggio. Guardate quanto è bella. e sicuramente qui dovremmo poi andare a svitare queste quattro viti per montare il copertone anteriore. Anzi, un attimo solo. Perché tanto abbiamo finito di fare questo unboxing e adesso, come vi avevo anticipato, farò una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero. Vediamo un attimo. e sono troppo curioso di vedere come si presenta. Allora, visto che qua abbiamo chiaramente il senso di rotazione con la freccia, quindi lo vedremo poi quando monteremo il tutto sulla forcella. Mentre invece qui vedo che sia così che così non fa alcuna differenza, anche perché non essendoci battistrada essendo delle power slick non ha alcun senso andare a vedere come posizionare il copertone. Vediamo un po'. Però aspetta, eh. Eh no, cosa faccio qua? Se io... Eh, non posso più evitare dopo. Un attimo, eh. Quindi proviamo a inserirlo così. Vediamo. Lavorerò, lavorerei da questa parte così evito di stressare e snervare le scritte Michelin. Vediamo. Vediamo. Poi magari dovrò toglierla nuovamente. non lo so se ci andrà qualcosa dentro ma non credo. Però non ci dicono di montarla ma io ero curioso. Ecco qui. Che bella! guardate che spettacolo! Ecco, poi questa girerà così come ci fanno ci indicano le frecce. No! No! No, le frecce non sono il senso di rotazione perché questa è contraria a questa. Quindi non è così. Per cui allora vediamo un po'. Una curiosità tanto ovviamente ci verrà spiegato dopo. Questo è messo così. Sto guardando una figura di riferimento, eh ragazzi? Ok. Bene. Verrà messa così la ruota. Ecco. Girerà così. Con la valvola sulla sinistra. Bellissima. Bene. Adesso prendo tutto quello che abbiamo montato e ci vediamo dopo. Questo è quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 7. Mi raccomando non mancate perché poi andremo a montare perché lo montiamo insieme seguitemi il numero 8 e il numero 9 che sono quelli che vi ho appena presentato ma guardate intanto dove siamo arrivati. musetto bellissimo con tutti i suoi sponsor il dottore all'interno vediamo se riesco a farvelo vedere c'è una lavorazione che sembra carbonio con la trama e l'ordito guardate guardate che roba non so se riesco vedete l'hanno fatta apposta pensate anche questo particolare anche se non si vede è carino poi abbiamo la protezione della forcella anche questa ha l'effetto carbonio abbiamo le pinze freno radiali Brembo con il logo i due rischi sempre in plastica che riproducono il carbon ceramica parafango anteriore guardate che carino l'ho fatto sostituire come vi avevo anticipato la De Agostini mi ha mandato i pezzi di ricambio senza farmi alcun problema se oggettivamente il difetto c'è non vi creano problemi e infatti chi mi segue lo ha visto nell'altro pezzo non combaciavano bene la riga argentata da una parte all'altra invece qua è perfetta guardate che bella è andata bene anche quello ma il pezzo forte quello di cui vi parlavo prima è questo ecco qua guardate queste forcelle qui nella foto e guardate le forcelle dal vivo non c'è paragone non c'è paragone peccato che non abbiano fatto la foto con queste forcelle qui con questa finitura io penso che molta gente che capisce e che sa come deve essere un ammortizzatore Hollins già per questo particolare non sapendo che poi ti arrivano così ha deciso di non farlo la stessa cosa anche il serbatoio potete guardarlo in ogni foto questo del recupero qui è bello dorato vedete qui no e neanche in questa foto assolutamente mentre lo stelo è uguale vedete bellissimo qui abbiamo una canna di alluminio che è stata messa sopra e poi fatta l'anodizzazione bellissima vedete a me piace farvi vedere il particolare ok volevo riprendervi la scritta per farvi vedere con quanta cura è stata stampata ecco guardate bellissimo bene ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo grazie di seguirmi e di continuare a dare vita al mio canale vi do appuntamento ai prossimi video mi raccomando non mancate un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari ciao ragazzi grazie a tutti